Comincia ancora l'azione nella zona di Davide Pisarro che prova a girare, a servire largo Guberti, prova ad aiutarlo da quella parte anche con l'inserimento laterale a sinistra, Giona Arnelise, Guberti cerca la conclusione personale 3-0, Stefano Guberti il primo gol con la maglia della Roma e certo la responsabilità enorme del portiere Schreng, 3-0 dopo 7 minuti a segno, anche Stefano Guberti al di là della qualità del gol, Alessio per questo ragazzo può essere importante comunque sbloccarsi Sì assolutamente, ti ripeto, fare gol è sempre importante ma è stato positivo il momento, il cambio di Giona di Pisarro, lui ha tagliato e è concluso logicamente la papera, possiamo dire che il portiere ha aiutato, ha fatto sì che nascesse il 3-0 Se la ride qui Guberti, se la ride perché Zopac